ciao a tutti amici sono fantasma e oggi siamo su crash royal raga mi avete detto che comunque l'altro deck faceva poco schifo però l'ho cambiato mi sono fatto anche qualche battaglia per vincere l'ariete ma evidentemente è impossibile porco zio non riesco raga non riesco prego comunque scriviamo sto facendo un video anche ci sono solamente io online però allora sì così possono tutte le cose io uso questo deck qua vedetemi voi se va bene è un deck di merda e il resto che gabbè allora raga noi facciamo sempre le solite faccine che vengono e poi partiamo cattivozzi cattivi 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 sono profugo cos'è la valchiria vero solo quella troia poteva fare capire mettiamo la tesla qui che dovrebbe prendere anche lui dovrebbe veloce tesla ok qualcosa di male è andato storto qualcosa di storto è andato male ok quella lì direi che potremmo anche lasciarla stare ecco porca troia mia ecco perché esiste lo stregone cazzo cazzo vada boom ciao ciao no vabbè ok stavo tipo per bestemmiare in cinese ok io ce l'ho a livello 4 ce l'ho a livello 3 comunque sempre puttana bastarda mi fa bestemmiare in una marina credibile raga mi sa che dovrò cambiare il deck perché comunque io non lo so usare un deck che mi ha fatto un mio amico pezzo di merda e io ho perso la torre perché non ho difese grazie mille sto stronzo del mio amico che mi ha fatto sto deck delle palle intanto 34 quella roba lì questa torre l'abbiamo praticamente persa correte prati fate correre raga ecco via torre perfettissimo proprio proprio quello che non volevo ma va bene che è droga ora tu mi devi spiegare che è droga due stregoni cari cristiano e volevi volevi e ma e adesso no non vale non puoi picchiarlo mentre è così sono un profugo go 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 ma mi sporco le mani merda fa male quello fa male perché sono già nero quanto lo odio la valchiria ma poi puoi usare la valchiria contro c'è no volevi fare tre colone allora raga adesso vado a cambiare deck perché comunque fai un deck di merda questo vado a cambiare deck ci vediamo tra pochissimo ok raga ho fatto il deck che è questo cioè principe pecca barbari tornato scheletrini cioè orda di scheletrini il ronco la zap e questa l'orda di di rape intanto vado a togliere il test rom ok qua è partito mettiamo subito un estrattore qui e così e così in realtà ho sbagliatissimo però che perfetto lui non sa che io ho la tornado boom bitch ho sbagliato ad usare la tornado perché il mini pecca li fa malissimo ok direi di fare così tanto ormai è andata a buttare nella torre perfetto con la torre è andata a troie mi sono dimenticato di mettere la furia in sto cazzo di deck di merda va bene raga essendomi dimenticato la minchia di estrattore va di me andando di meno non c'ho un cazzo da fare però tre corone cioè allora tu mi devi spiegare la forza di questo ragazzo quando gioca a clash royale e volevi toccarmi la torre pezzo di merda guarda guarda che faccio guarda che non si è aspettato sto male poi andiamo così cattivi boom boom perfetto proprio come volevo ciao ciao torre allora ma un leggendario no di sicuro perché questo qua è bastardo nel cuore appunto e io non riesco a capire perché non mi da più il la minchia del ah ma facciamo un'altra battaglia raga scusate se non urlo ma sono le 22.43 e io in realtà mi dovrei fare la doccia ma visto che non ne ho assolutamente la voglia guarda che anch'io piango perché io so strozzo ecco si puzza il culo sono profugo sono profugo ehm lui pensa l'oro orco zio affanculo mi cerca a sprecare la tornata pezzo di figa ok comunque gli ho fatto abbastanza tanto io direi di a questo punto lasciare l'orda riandare e mettere il peccone di qua eh cazzo con l'orda si chiede ma dove lo trova tutto sta lisile lo sparo dal buco del culo e volevo dire che comunque non lo trovo da qualche parte cioè non è che lo sparo davvero dal buco del culo anche perché sennò sarebbe un problema ma serio sono profugo perfetto tre corone bellissimo raga sto deck scusa ma ho dovuto ho dovuto perché mi ti puzza il culo e quindi ok bene baule dell'amiche attenzione ok 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 non ho trovato una fava raga non mi ragazzi perché voglio arrivare almeno a 20 30 mila monete perché non c'ho un cazzo niente da fare sinceramente io chiederei questo guarda se se mi danno quello potrei anche migliorarlo quello sai noi facciamo due piagnotti wow wow si mette pure a dire wow sto stronzo adesso gli spaccio la famiglia perché io sono cattivo perché però ti coglioni dici wow ti spacco il culo ecco bravissimo senti ora ti senti fortunato dove minchia vabbè comunque comunque c'ho l'elisira anche per fermarti quello qui sinceramente non mi fa male però è una scassatura di coglioni questo è al mazzo spawn al mazzo spawn abbiamo appurato che questo qua è un figlio di puttana c'è al mazzo spawn porco zio è un illusionista è un illusionista oppure c'è un mazzo spawn oppure ha capito quale sarà la mia prossima mossa credo tutte 25 le opzioni che ho detto ma dove minchia lo trovo o c'ha lo specchio oppure c'ha un culo della madonna cioè non lo so su porco zio questo è forte raga siamo nella merda che altro perché ho sbagliato porco due dai gira sta micchia di cosa no vabbè se li prendi ecco stavo per bestemmiare i gesù bambini dai edali gioco i bastardi negri ma che vita di merda non so se mettere quello che mollo prima cazzo meno di quelli la ma allora c'ho la madre mignotta nel popò orco zio frate orca madonna ma bravo piccio grande pirla grande dai metti qualcosa bravo bravo madonna tonno madonna oso foscolo madonna ginocchio questo qui c'ha le rime è peggio di un pasto di rima ma porco zio vuol dire che c'hai la madre puttana 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 patabomciaccia ogni tanto parte un suono che fa bumbala bumbala bumciaccia ma allora c'hai la madre cazzoide bumbala bumciaccia raga ve lo giuro che io mi sto incassando come una bestia arco 2 vabbè raga io direi che il video si può concludere qua se vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale bella 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 vediamo n Grazie a tutti.